Musica Protesta del Comitato di Sabli Torrisi questa mattina nei pressi degli uffici dediti alle politiche sociali, siti nei mulini Marzoli. Diversi membri del Comitato si sono confrontati con le istituzioni presenti per avanzare delle proposte e per evidenziare le diverse problematiche riscontrate. La richiesta sono molte problematiche, molti argomenti da discutere. In primis ci sono gli argomenti per l'assistenza domiciliare, poi ci sono gli assegni di cura che non vengono pagati, ci sono molte, molte problematiche. Naturalmente noi veniamo qui giù ai mulini per parlare con l'assessore Pirozzi, addetta alle politiche sociali. Sono dieci volte che vengono, dieci giorni di seguito lavorativi, non si trova mai. A noi personalmente dei comitati e dei padri e madri di ragazzi disabili ci occorre un assessore presente, non un assessore che non è presente. Il sociale si fa con il cuore e con amore, perché se devono svolgere altre cose, altre categorie, altri mestieri, si facciano altri mestieri e lasciano il sociale a chi di dovere, a chi ha competenze del sociale. Noi dicono il garante, ma noi il garante siamo noi, i problemi dei nostri figli, li sappiamo noi, padre e madre dei ragazzi, che li viviamo 24 su 24 i ragazzi. Allora, gli assessori che stanno dietro alle scrivanie, quando dovrebbero stare, che poi non ci stanno mai ogni volta che veniamo, cortesemente lasciano il posto a chi è di competenze e a chi c'è disponibilità di fare l'assessorato. Sopraggiunto, in un secondo momento, il sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba. Diversi attimi di tensione hanno caratterizzato la discussione tra i presenti, stemperata con il successivo confronto, tenutosi all'interno degli uffici comunali. Il sindaco è venuto e comunque ci ha preso un appuntamento per domani alle due e mezza al Palazzo Baronale, perché ci ha preso l'appuntamento anche con l'assessore Pirozzi, perché lei sta alle politiche sociali e quindi ci devono dare delle spiegazioni. Quali sono le richieste in particolare che vengono mosse all'amministrazione? Diciamo che le richieste sono tantissime da parte delle famiglie, sono varie, speriamo almeno di esaudirne qualcuna, come per esempio l'assistenza domiciliare, che stanno parlando del fatto della compartecipazione, non tutti hanno la possibilità. C'è un progetto in giro per la città che è stato fatto dall'anno scorso per i ragazzi disabili e ancora adesso non si sa niente di questo progetto, non l'hanno messo in atto e quindi vorremmo sapere che fine ha fatto questo progetto. La palestra GIL che è stata sempre aperta, almeno per noi disabili, per i disabili due volte a settimana ed è ancora chiusa e ci chiediamo il perché, dato che adesso è tutto aperto e quindi perché proprio la palestra dove i ragazzi disabili possono fare un po' di attività e stare insieme con le famiglie sia ancora chiusa. L'assegno di cura, che ci sono alcune mamme che hanno fatto la domanda l'anno scorso e niente, hanno detto che non ci sono ancora i fondi perché questi soldi arrivano solo per i gravissimi e per i gravi non se ne parla proprio. Quindi ci sono queste richieste da parte di queste mamme e abbiamo in particolare una famiglia che ha bisogno di aiuto. Noi come associazione gli stiamo vicino però sinceramente vediamo che dal comune l'aiuto non ci sta proprio perché questa famiglia ha un ragazzo disabile molto grave, ha bisogno di un trasporto e siamo venute qua proprio per vedere se ci possono dare una mano.